Quello è il nostro obiettivo, quello di riportare in primis serenità nell'ambiente per poi riuscire a riconvolgere tutti i nostri tifosi e riavere l'entusiasmo che poco tempo fa ci accompagnava in ogni partita. Vogliamo farlo a partire da domani, sappiamo che è un impegno difficile ma che abbiamo le qualità per affrontare nel migliore dei modi e sono convinto che avremo le possibilità per poterne venire fuori già dalla partita di domani. Io ritengo di essere il responsabile primo e assoluto di questa squadra soprattutto quando le cose non vanno come devono andare, questa è la mia sensazione di sempre e quindi in settimana di volta in volta proviamo a lavorare sugli aspetti che pensiamo possano essere quelli determinanti per ottenere risultati positivi. Tra questo, questa settimana sicuramente c'è stato questo aspetto che abbiamo toccato non è facile riuscire a mostrare grinta quando le cose non stanno andando bene perché più che grinta io ho parlato a fine gara di timore è un sentimento che raramente mi piace, raramente mi appartiene perché nel mio percorso è sempre stato contraddistinto dal coraggio nel mio percorso anche con questi ragazzi perché noi abbiamo iniziato a fare i spenti e con tanta voglia, tanta abnegazione e tanto coraggio di provare a fare le cose che sappiamo fare siamo riusciti ad arrivare forse più in alto di dove avremo meritato e da lì purtroppo poi c'è stato un periodo difficile un periodo difficile che è culminato con queste ultime due sconfitte e che noi abbiamo voglia di far terminare in fretta per far tornare, come abbiamo detto prima, l'entusiasmo e il sorriso ai nostri tifosi e pensiamo che domani possa essere l'occasione giusta contro una grandissima squadra che viene sul campo nostro ma che sicuramente abbiamo le possibilità per poterla mettere in difficoltà. Il nostro obiettivo è quello di ritrovare il coraggio e la spensieratezza che ci ha accompagnato nei momenti belli e sappiamo di poterlo fare già dalla partita di domani perché penso che possa essere una grandissima occasione quella di incontrare una squadra capolista che viene da tantissimi risultati utili e viene da tante vittorie utili consecutive e questo per noi deve essere un motivo in più per provare a fare il massimo di quello che possiamo fare. Per la costruzione di una squadra ovviamente sono convinto di questo non si può pensare che ci si impieghi qualche settimana o un mese quindi noi abbiamo iniziato un percorso quest'estate e sono sei mesi che stiamo insieme e non potevamo pensare di non incontrare in un campionato così lungo delle difficoltà. Le abbiamo incontrate grandi all'inizio poi siamo stati bravi ad alternare risultati positivi e risultati negativi che però ci hanno permesso di scalare posizioni e nell'ultimo periodo invece veniamo da due sconfitte brutte che non avremmo voluto e che purtroppo sono arrivate e a me piace sempre, come vi ho detto spesso, riuscire a guardare avanti e guardare avanti, davanti ci mette davanti una formazione forte la capolista di questo campionato una squadra, come abbiamo detto poco fa, che viene da tanti risultati belli e per noi questo deve essere uno stimolo in più a riuscire a ritrovare quello che sappiamo fare e mostrarlo a noi stessi in primis e a tutti quelli che ci sostengono per seconda. Abbiamo fuori per infortunio Oikonomu, Sisse e Salzano a cui purtroppo faccio un grandissimo in bocca al lupo perché ha avuto un brutto infortunio che capita purtroppo nel calcio e questo ci dispiace tantissimo e speriamo domani di potergli dare una grande gioia perché si è sempre allenato bene è stato protagonista all'inizio, un po' meno dopo ma era un ragazzo parte integrante di questo gruppo e quindi per noi è un motivo in più per riuscire ad ottenere domani un risultato positivo e abbiamo negli ultimi giorni, oggi ha preso una botta Ciccio-Brienza e lo abbiamo in dubbio per domani così come Teio che è rientrato solo ieri a allenarsi con noi per il resto gli altri saranno disponibili prima ho detto quella frase riferendomi al fatto che siamo arrivati a delle posizioni di classifica che forse all'inizio dell'anno, anzi sicuramente, potevano essere sperate però siamo stati bravi a raggiungerle con il lavoro, con il gioco, con il coraggio e con la spensieratezza di provare a proporre quello che ci piace proporre siamo in un momento in cui purtroppo i risultati non sono arrivati è un momento negativo, non lo possiamo negare e abbiamo tanta voglia di uscirne vogliamo provarci già dalla partita di domani perché sicuramente sarà un appuntamento di cartello e noi vogliamo essere presenti a questo appuntamento sicuramente è un ambiente che negli ultimi anni avendo ricevuto tante delusioni fa fatica nel momento di difficoltà come stiamo attraversando noi ma io l'ho detto nella prima domanda domani abbiamo una grandissima occasione per dimostrare non con le parole ma con i fatti che abbiamo voglia di ripartire e proveremo in tutti i modi a iniziare dalla partita di domani perché sicuramente sarà un bel test grazie a tutti grazie